Senti questa fiamma che suono accogliente, rilassante, che produce prendo, tagli e spriciolo Brushing face, goccole con questo bellissimo pennello Rilassati, lasciati andare Ciao tesoro, ciao tesoro, ciao tesoro In questo video voglio fare un whispering super super delicato e lento Questo video non avrà alcun senso Farò dei gesti e parlerò solo ed esclusivamente per rilassarti Quindi mettiti in una posizione comoda che cominciamo subito, 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 subito Vorrei cominciare con l'accendere una cartella Grazie a tutti 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 Uno stoppino di legno Che dovrebbe scoppiettare e fare un suono super piacevole Grazie a tutti Grazie a tutti Ha un suono veramente scoppiettante Molto scoppiettante Andiamo ad appoggiarla qua E adesso cominciamo con qualche gesto Utilizzando la selenite Sto facendo del tracing davanti ai tuoi occhi Sulla tua faccia Sulla tua faccia Solo ed esclusivamente per rilassarti Prova a seguire la buontà La buontà Seguila 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 E' Essi Seguila Essi E prendo, taglio, sprigio prendo, taglio, sprigio spero che tu stia già lasciando andare le tue resistenze al rilassamento e al sonno se così non fosse rilassati lasciati andare lasciati andare lasciati andare lasciati andare è importante che tu guardi questo video perché i visual triggers sono potenti al pari della voce al pari del whispering è importante che tu guardi le mie mani che ti aggarezzano la faccia è importante che tu veda le mie mani che prendono tutte le tue resistenze al sonno e che le spriciolano tutte le resistenze al sonno vengono spriciolate completamente 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 rilassati 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 senti che ti stai abbandonando ad uno stato di benessere senti che ti stai abbandonando al sonno al sonno, abbandonati al sonno non temere, non temere di lasciarti andare non temere non temere adesso faremo un po' di brushing face brushing face brushing face brushing face brushing 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 face brushing face brushing face con collez con questo bellissimo pennello coccole 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 sulla tua faccia un pennello delicatissimo delicatissimo che fa a sciogliere ogni residuo di stanchezza di stress di preoccupazione un pennello un pennello meravigliosamente rilassante 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 con la rilassante torna rilassante 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 come stai? rilassante Sì, lo so, a volte non è facile mollare ma adesso è il momento giusto per crollare dal sonno un sonno bello, ristoratore, un sonno che ti ritempra, che ti rigenera dormi 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 torni querida questo video è per dormire per dormire per dormire per non pensare in nada per non pensare in nada in nada in nada senti questa fiamma che suono accogliente rilassante che produce ha un ottimo profumo di cioccolata ma non solo la vedi? osserva questa candela segui la fiamma segui la fiamma e svuota la mente da ogni pensiero svuota la mente da ogni pensiero svuota la mente svuota la mente da ogni pensiero pensiero se un pensiero arriva guardalo e lascialo andare lascialo andare senti il tuo corpo sempre più rilassato sempre più pesante le tue palpebre sono sempre sempre più pesante si stanno chiudendo si stanno chiudendo e ti stai addormentando buona notte buona notte tesoro buona notte tesoro buona notte tesoro Buon nuit. Buon nuit. Buon nuit, buon nuit. 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 e sogni d'oro vorrei cominciare con l'accendere una cartella seguite c'è là uno stoppino di legno che dovrebbe scoppiettare e fare un suono super piacevole il nostro corso gratuito è un po' di più ha un suono veramente scoppiantante molto scoppiantante andiamo ad appoggiarla qua e adesso cominciamo con qualche gesto utilizzando la selenite sto facendo del tracing davanti ai tuoi occhi sulla tua faccia solo ed esclusivamente per rilassarti prova a seguire la buontà la buontà la buontà seguila seguila si avvicina e si allontana si avvicina e si allontana si avvicina e si allontana si avvicina prendo taglio spriciolo prendo taglio spriciolo prendo taglio spriciolo prendo taglio e spriciolo taglio 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 contro taglio aglio e a taglio aglio un taglio le tue resistenze al rilassamento e al sonno se così non fosse rilassati lasciati andare lasciati andare lasciati andare lascia lascia lasciati andare lasciati andare è importante che tu guardi questo video perchè i visual triggers sono potenti al pari della voce al pari del whispering è importante che tu guardi le mie mani che ti aggarezzano la faccia è importante che tu vedas le mie mani che prendono tutte le tue resistenze al sonno e che le spriciolano e che le spriciolano tutte le resistenze al sonno vengono spriciolate completamente 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 rilassa rilassa i tuoi muscoli rilassa il tuo respiro rilassa il tuo respiro lascia andare il tuo corpo lascia che le parti che le parti che sono contratte si distendano si rilassino senti senti che ti stai abbandonando ad uno stato di benessere senti che ti stai abbandonando abbandonando al sonno al sonno al sonno abbandonati al sonno al sonno non temere non temere di lasciarti andare non temere non temere non temere adesso faremo un po' di brushing face brushing face brushing face brushing brushing face coccole con questo bellissimo pennello coccole 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 un pennello delicatissimo che fa a sciogliere ogni residuo di stanchezza, di stress, di preoccupazione un pennello meravigliosamente rilassante come stai? come ti senti? come ti senti? si si lo so, a volte non è facile mollare ma adesso è il momento giusto per crollare dal sonno un sonno bello, ristoratore, un sonno che ti ritempra, che ti rigenera dormi 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 sleep 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 dormi 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 questo video è per dormire per dormire per dormire si per non pensare in nada per non pensare in nada in nada in nada senti questa fiamma che suono accogliente, rilassante senti questa fiamma che suono accogliente, rilassante che produce ha un ottimo profumo di cioccolata ma non solo ma non solo ma non solo la vedi? osserva questa candela segui la fiamma segni segui la fiamma e svuota la mente da ogni pensiero svuota la mente da ogni pensiero svuota la mente e lascialo andare lascialo andare senti il tuo corpo sempre più rilassato sempre più pesante le tue palpebre sono sempre sempre più pesanti si stanno chiudendo si stanno chiudendo ti stai addormentando buonanotte tesoro buonanotte tesoro buonanotte meus amores buonanotte estrelitas buonanotte 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 mes amie buonanotte buonanotte me pedite tua buonanotte 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 e sogni d'oro e sogni d'oro buonanotte la buonanotte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.